Si allunga l'ombra del sabotaggio sugli incidenti avvenuti in Abruzzo nei giorni scorsi sulle autostrade A24 e A25 gestite da strada dei parchi. La scoperta degli squarci sulle reti di protezione autostradale, speculari su entrambi i lati e compatibili con un taglio da cesoia nei pressi di Avezzano, lascerebbero ipotizzare scenari non accidentali, tanto che la stessa concessionaria ha sporto denuncia alla polizia stradale. Il varco creato nella rete di protezione che ha consentito l'attraversamento della fauna selvatica in autostrada soltanto negli ultimi tre giorni ha generato tre incidenti stradali che per puro caso non hanno avuto esiti tragici ma che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul tema della sicurezza stradale sulle reti viarie che attraversano zone protette come i parchi. Due di questi sinistri sono avvenuti sulla 25 nel tratto compreso tra i caselli di Avezzano e Magliano dei Marsi. Entrambi sono stati causati dall'attraversamento di gruppi di cinghiali e solo per pura fortuna non hanno avuto esiti gravi per gli automobilisti. Nessuna conseguenza anche per l'uomo che mercoledì scorso ha impattato degli ungulati nel tratto teramano della 24, nonostante l'auto a GPL sia andata a fuoco dopo l'incidente, poi subito spenta grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Torna dunque a essere centrale la messa in sicurezza delle autostrade gestite da strada dei parchi. Un progetto era già stato avviato dopo un lavoro di concertazione che ha coinvolto anche il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, come spiega il direttore Luciano Sammarone. Il tema degli incidenti stradali purtroppo continua a essere ricorrente perché siamo una regione con tante aree protette, con una ricchezza di fauna importante. Sulla rete autostradale eravamo riusciti ad ottenere la messa in sicurezza di un primo tratto dell'A25 nei pressi della Galleria di Cucullo, all'epoca frequentata da una famiglia di orsi e lo stesso progetto era previsto venisse realizzato su circa 80 chilometri della rete autostradale a 24, a 25 in prossimità delle zone dove si erano verificati un numero maggiore di questi incidenti. L'A25 purtroppo è famosa ma anche l'A24 perché più volte si sono verificati incidenti anche mortali con degli orsi, tant'è che noi l'anno scorso raccogliendo una possibilità prevista all'interno della programmazione FSC dei fondi regionali abbiamo presentato come parco una scheda per la messa in sicurezza di un tratto della statale 17 fra Castellisangro e Roccaraso, in meno di 10 anni lì sono stati investiti e uccisi tre orsi l'ultimo carrito. Quindi è chiaro che questo è un tema che va affrontato che serve sicuramente a salvaguardare la vita di esemplari preziosi come gli orsi ma in prima istanza e fondamentalmente la sicurezza stradale e quindi la vita di tante persone. Occorre investire risorse significative per la progettualità legata al tema della sicurezza stradale, sottolinea il direttore San Marone, che rimarca anche come la gestione di strade e autostrade sia in capo ai soggetti che detengono le concessioni. Noi siamo a disposizione sia il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sia il Parco Nazionale della Maiella, così come abbiamo fatto anche in alcuni casi con il progetto Life Safe Crossing, realizzando delle barriere di prevenzione lungo diversi tratti di strade statali soprattutto, però stiamo parlando di progetti specifici, dedicati, che non attengono alla competenza diretta delle aree protette, che non gestiscono le strade.